Buongiorno, benvenuti a questa Rassegna Sampa di oggi martedì, no, mercoledì 6 marzo. Oggi è il giorno in cui parte il reddito di cittadinanza. Sostanzialmente oggi vengono fatte le richieste e ci si mette tutti in fila al CAF, alle poste per capire entro un mese se si ha diritto o meno al reddito di cittadinanza. Le cose importanti di oggi sono una tecnica e l'altra politica, mettiamola così. Quella tecnica è che il reddito di cittadinanza oggi dovrebbe, buongiorno Agostin, i giornali ne parlano esplicitamente, il messaggero e tanti altri, secondo le previsioni, soltanto, adesso vi dico il numero esatto, soltanto uno su tre dovrà cercarsi un lavoro. Cioè gli altri sono veri e propri sussidi, chiaro? Cioè due terzi dei redditi di cittadinanza andranno a persone che non hanno bisogno di fare quei lavori che ci hanno raccontato in questi mesi essere fondamentali, perché hanno disabili in famiglia, perché non sono in grado di lavorare, perché per vari motivi, comunque uno su tre soltanto dovrà entrare nel processo, diciamo, di formazione. Quindi si tratta di un grande, gigantesco sussidio. E Rizzo oggi su Repubblica ci dice dire che non ha senso è una sciocchezza, soprattutto da sinistra. E io la penso come lui, nel senso che io, non essendo di sinistra, penso che il reddito di cittadinanza sia una cagata pazzesca nel suo principio. E quindi la critica non è nella sua applicazione che può essere sbagliata. Mentre Rizzo lo critica dicendo che hanno fatto un sacco di casini nella sua applicazione. Quindi il giornalista Rizzo vuole spiegare a, diciamo, gli incapaci che ci governano, secondo lui, come fare bene un reddito di cittadinanza che però sarebbe giusto nel suo principio. Buongiorno a Chiara che vedo collegarsi ora. Quindi in realtà la cosa che sui giornali, secondo me, è miope, è che chi è contro al reddito di cittadinanza, ci sono due categorie. Quelli è la Rizzo che sono contro da un punto di vista tecnico, ma sono a favore da un punto di vista di principio, che è la Repubblica, la sinistra, che quindi dicono avete fatto male il CAF, il non CAF, il navigator, e si attaccano alla incapacità della nostra amministrazione di erogare questo sussidio. Ma questo vale per tutto, vale per l'ISE, vale per la 104, vale per i concorsi che si fanno e poi si aboliscono e poi non si utilizzano, vale per tutto. Cioè quando hai a che fare con la pubblica amministrazione non ti va mai bene. Invece la critica vera che si dovrebbe fare al reddito di cittadinanza è che è un sussidio assistenziale disgustoso in un paese in cui ci sono ventenni a cui gli dai 780 euro per far cosa? Per formarsi all'italiana. È una roba da morire da un punto di vista di crescita di un paese, ma anche di educazione al lavoro in un paese normale. Io avrei ridotto le tasse e voi dite ma la solita frasetta fatta di quello di destra? Sì, la solita frasetta fatta. Oggi il sole 24 ore ricorda cosa è successo a Budapest dove c'è il cattivone di Orban. Il cattivone di Orban ha messo una tassa piatta sulle imprese al 9% e quindi c'è una flat tax sugli imprenditori. Sapete cosa è successo? In una società al giorno italiana si apre in Ungheria. Una al giorno vanno lì a prendersi riduzioni fiscali, aziende di costruzione, di professionisti. Ci voglio pensare anch'io, voglio vedere se è possibile. Perché è una cosa geniale. Cioè si vota con i piedi e quindi l'unica possibilità per creare lavoro è ridurre le imposte, far sì che gli imprenditori ti assumano e ti formino. Non quattro cazzo di centri inutili di formazione che in realtà sapete cosa fanno? Formano se stessi, cioè trovano loro a se stessi prima di trovarlo agli altri. Polemica sulle regioni, chi assume e non assume i navigator, ve le risparmio. Non posso risparmiarvi la seconda notizia di giornata, cioè la TAV, cioè la scelta di non decidere. Oggi Salvini spera di uscire questa sera dal vertice, l'ennesimo vertice con una soluzione, mentre invece Conte dice che si deve decidere venerdì. Come si chiama? Toninelli, secondo il giornale, è stato licenziato. Lo è virtualmente perché pare che Conte gli abbia tolto il dossier di mano. L'idea geniale del Movimento 5 Stelle, sapete qual è? Rivediamo la TAV, sapete come? Non facciamo il tunnel, cioè facciamo... Rimettiamo a posto la ferrovia, cioè è fantastico, è veramente, è veramente, no? Che ci vuole? Perché non pensarci prima? Non facciamo un tunnel, non lo facciamo il tunnel, ma che servono i tunnel? Ma niente, l'hanno inventato soltanto, come direbbe il fatto, per fare gli affari, per rubare, cioè tutto quello che noi facciamo. L'autostata del sole l'abbiamo fatta per rubare, i telefoni cellulari l'abbiamo fatta per rubare, i ponti li facciamo per rubare, tutto per rubare, e tutta questa è la mentalità per cui se fosse stato per loro saremmo stati all'età della pietra, così non avrebbe rubato nessuno e ci saremmo soltanto corcati di botte con le clave. Oggi, legittima difesa, a proposito di botte con le clave, lì si esercita Travaglio che dice ma ragazzi guardate che più o meno è la stessa cosa che voleva il PD, questa legittima difesa. Devo dire che è molto divertente perché mette a paragone l'una legge con l'altra legge, oggi sul fake quotidiano. voteranno anche Forza Italia, Fratelli d'Italia, legge sulla legittima difesa, ma potrebbero esserci una trentina di, come si chiama, di franchi tiratori. Vedremo stasera come si metteranno d'accordo. Tavo o non tavo organizza una bella tavolata e continuo a trapanare. Francesca dice finalmente la critica di liberare il reggio di cittadinanza, e lo dico da sempre, la Sarti, presidente della Commissione Giustizia, che ha fatto una denuncia falsa, sapendo che era falsa nei confronti del suo fidanzato, perché diceva che si sarebbe approfittato di lei, mentre era lei che gli aveva dato il token per fare il bonifici, beh, insomma, questa da presidente della Giustizia si è dovuta dimettere, ma non si dimette al Movimento 5 Stelle, c'è grande lite là dentro, hanno fatto un'altra grillina, presidente del Movimento 5 Stelle, Enrico Costa di Forza Italia, giustamente dice non la possiamo votare perché è esattamente la relatrice di quella legge assurda, per cui la prescrizione, legge veramente assurda, si ferma dopo il primo grado, staremo a vedere. Altra cosa, molto divertente oggi, il ritratto di Gianrusso, un professionista dell'antimafia trattato da per suo da Perna, da leggere, l'uomo che è passato dalla rete di Orlando al Movimento 5 Stelle, direi perfetto. C'è un'altra polemica oggi, fantastica, sui giornali, che deriverebbe dal fatto che l'amministratore delegato della RAI, Salini, abbia visto il vice premier, come si chiama, Salvini, e nella realtà avrebbe visto, secondo le ritroscena, anche Di Maio, che è vice premier, e si sarebbe facciato anche Conte, che è presidente del Consiglio, tutti scandalizzati, perché nel giorno in cui deve presentare la rigenerizzazione della RAI si è visto con Salvini, il PD che ne urla di tutti i colori, tutti arrabbiati perché l'amministratore delegato della RAI, nominato dalla politica, si vede con vice premier. Allora, oggi, sul Corriere della Sera, c'è una recensione di una pagina sontuosa, fatta da De Bortoli a Carlo Verdelli, che è l'attuale direttore di Repubblica e che era, quando ero in RAI, il direttore dei programmi, delle news, non so che cosa fosse, era molto poco chiaro il suo ruolo. Bene, racconta in questa scena, in questo libro, Verdelli, quando il 17 marzo, c'era la data giorno preciso, quando era, lo leggo, il 17 marzo del 2016, lui e Campodallorto, cioè il Conte Mascetti, l'amministratore delegato dell'epoca, e il direttore delle news dell'epoca, vengono convocati da Renzi, che si sbottona la camicia e dice guardate quanto sono abbronzato, mi prendo lì su quell'astraio il sole, qua in questa bella città, insomma, nel giorno in cui il PD si scandalizza che Salini vede Saldini, sul Corriere della Sera, l'ex direttore delle news, ci spiega di quando lui e l'ex amministratore delegato venivano convocati da Renzi, per che far cosa? Per mangiare, per stare al sole, eh? Per far cosa? Per parlare della RAI, ovviamente, esattamente come fanno questi qua, né più né meno, però il PD si scandalizza oggi, non ieri, quando era Renzi che fece fuori i programmi, che mi sembra che questi non abbiano ancora fatto fuori. Ultima cosa, e devo dire che oggi il pezzo di Tony Damascelli è il più bello di tutti, anche il Feltrino si è esercitato, ma direi in maniera un po' più celebrale, se volete elegante, ma quello di Damascelli è il pezzo dei pezzi, io non ne posso parlare, perché lavoro a Mediaset, già mi hanno censurato una volta, censurato non perché mi hanno detto di non parlare, ma censurato con una lettera dicendo tu dell'azienda tua non puoi parlare, ed hanno ragione, io non sopporterei se fossi, non so, l'amministratore delegato della Coca-Cola, che un mio dipendente dica che la Coca-Cola non va bene, e quindi io di Mediaset non parlo, però posso citare il pezzo di Damascelli su quella cosa che è successa l'altra sera all'Isola dei Famosi, in cui hanno svelato a Riccardo Fogli che hanno quella bestia, quel delinquente criminale di Corona, questo lo posso dire, un criminale, Corona è un criminale di merda, che si permette in televisione ad umiliare un signore di 70 anni, come Fogli, dicendo che sua moglie da 4 anni gli mette le corna, bene, lo ha trattato oggi Damascelli, io non aggiungo, leggetevelo, se volete leggete sul mio sito quello che ha scritto con garbo Alessandro Gnocchi, ma se questo è il modo, ma non di fare televisione, e il modo di trattare le persone, beh, insomma, io penso che sia un mondo e un modo veramente brutto. Direi che per il momento è tutto e penso che per... che non mi sono... non dico nulla di grave, spero, niente di censurabile, ecco, questa è la rassegna di oggi, noi ci vediamo, come sempre, domani con la zuppa, ciao!